Io chiudo ringraziando ancora il sindaco. Sono persone che hanno lavorato per realizzare questa mostra davvero bellissima e importantissima che noi come Roma Capitale, come Pala Expo abbiamo fortemente sostenuto e che consideriamo davvero importante. E' anche un bellissimo modo per far conoscere un po' come stiamo trasformando il mattatoio in una città delle arti, uno dei progetti forse più belli e ambiziosi della nostra trasformazione della città. Ma davvero questa mostra è così toccante e così unisce una comunità che è anche emozionante per me parlare e davvero sottolineare come questa mostra ci aiuta a interrogarci molto bene penso, sta fatta davvero bene Ugo, sulle ragioni più profonde per le quali Berlinguer oggettivamente non è solo tra le personalità più rilevanti, più stimate, più riconosciute come tali della storia della democrazia italiana, della Repubblica italiana, ma forse tra quel ristretto nucleo di statistiche che hanno contribuito a costruire, edificare, difendere la democrazia italiana è forse il leader più amato, più amato dal popolo italiano, più amato naturalmente dal mondo della sinistra, nelle sue variegate famiglie, ma in qualche modo si è costruito un rapporto del popolo italiano nei confronti di Berlinguer che dura e che penso non può essere solamente spiegato con le caratteristiche dell'uomo, della persona, che pure sono straordinarie nella loro rigore, serietà, mitezza, rifiuto di ogni forma di demagogia, di retorica e quindi autenticità profonda nella capacità di costruire un nesso non solo politico, ma anche sentimentale con l'Italia, con le sue contraddizioni, col popolo italiano. Ma non è solo questo, seppure naturalmente la personalità di Berlinguer è un elemento fondativo, è davvero anche per me un piacere essere qui con Bianca, con le figlie, con la famiglia di Enrico Berlinguer, ma evidentemente c'è una ragione più profonda, che forse fino adesso, ne parlavamo proprio con Ugo, l'astorografia su Berlinguer non ha aiutato, non ha saputo fino in fondo cogliere. In una bianca, ci sono delle parole di Bianca Berlinguer in una lettera del 96, in cui dice come parlare di Berlinguer? Denunciava un rischio di essere passati da un mito quasi eccessivo, in una mitizzazione quasi astorica politica, a una demitizzazione altrettanto forse generosa, della quale forse occorre riconoscere e conosce anche le ragioni storico-politiche di un'astorografia che, anche comprensibilmente, in una stagione in cui gli eredi di quella della storia si avviavano per la prima volta al governo del paese, faceva i conti anche attraverso Berlinguer con i limiti e le contraddizioni della storia del comunismo italiano, oggettive, e poi magari anche con una prosecuzione, oltre la vicenda storica del PC, del normale dibattito tra i gruppi dirigenti e che proseguiva anche, in qualche modo, delle diverse posizioni dentro l'astorografia. Una stagione importante, l'astorografia, io anche vi ho partecipato in qualche modo, che ha anche contribuito a cogliere, a fissare dei giudizi, delle valutazioni, delle analisi molto importanti. Credo che adesso sia necessario, in qualche modo, ci siano anche le condizioni per avere forse quel distacco temporale, generazionale, sufficiente a andare, vorrei dire, all'essenziale, andare a ciò che è veramente importante, che va oltre la politologia, l'incapacità, la sconfitta del compromesso storico, i limiti, il rapporto con i socialisti, c'era troppo moralismo, non ce n'era abbastanza, gli equilibri interni del gruppo dirigente e dei suoi successori e dei loro eredi, tutte cose fondamentali, naturalmente, e quindi è stato troppo, troppo poco, non si è fatta la svolta per tempo, si sarebbe dovuta fare prima, bisognava fare la democrazia dell'alternanza, tutte cose, diciamo, importanti, naturalmente, ma che in qualche modo, adesso, oggi, ci interessano, c'è stato il crollo della Prima Repubblica, hanno avuto conseguenze, anche la sconfitta del disegno di Moro, la sconfitta del disegno di Berlinguer, ma sono tutte cose importantissime, ma che forse non aiutano a cogliere fino in fondo la sostanza. E qual è la sostanza, io penso, che questa mostra aiuta a capire? Quello che resta, che oltre anche queste vicende di vittorie, di sconfitte, e che spiega, forse, fa capire meglio perché i funerali sono stati quei funerali, perché quel rapporto sentimentale dura ancora oggi. Io penso fondamentalmente per tre ragioni, la prima è spiegata benissimo da due pannelli di questa mostra, uno è quello in cui sono indicate tutte le riforme che sono state realizzate, diciamo così, nel decennio 69-79, in cui Berlinguer è vice segretario e poi, in qualche modo, prosegue la legislatura, dove, grazie anche a Berlinguer, il PC, prende un risultato gigantesco e è protagonista del percorso parlamentare, persino di maggioranza, persino di governo, della maggioranza di governo per una fase. Quindi la stagione, diciamo, sono riforme impressionanti, è la costruzione del welfare in Italia, è l'attuazione della Costituzione, è la, diciamo, stagione dopo la stagione della crescita degli anni 50, dello sviluppo degli anni 50, della crescita degli anni 60, è la stagione della costruzione di una democrazia sociale, dei diritti, che con tutti i limiti, con tutti i problemi, che conosciamo, però oggi sta ancora qua. E dall'altra parte il pannello sui attentati terroristici, è impressionante, ma quella è stata una stagione che ha conosciuto un attacco alla democrazia senza precedenti. In altri paesi analoghi ai nostri ha prodotto la istituzione di dittature, in Italia no. E tra l'altro c'è anche un nesso tra le due cose, ovviamente, stiamo semplificando, se si arriva a quel livello di redistribuzione della ricchezza costruita dal boom economico, col quale abbiamo potuto finanziare il servizio sanitario, la scuola, democratizzando i corpi dello Stato, non è sorprendente che ci sia, diciamo così, una reazione a tutto ciò, che ha conosciuto anche quelle forme estreme, ma molto pratiche, di centinaia e migliaia di omicidi, stragi, uccisioni, di destra, di sinistra, eccetera, eccetera, una tenaglia che ha messo in discussione la nostra democrazia. In sostanza Berlinguer, non da solo, ma è stato il protagonista più importante, insieme a Daldomoro possiamo dire, della vittoria della democrazia e della sconfitta di chi la voleva, diciamo così, travolgere, e della capacità al netto della sconfitta politica, del fatto che poi c'è stato il preambolo, e poi c'è stato il pentapartito, e poi c'è stato gli anni Ottanta, il debito pubblico, ma al netto di questo è stato il vincito, l'autore di una vittoria. Oggi, dopo aver spiegato, aver fatto 30 anni di analisi della sconfitta, forse possiamo anche spiegare, dire, che al netto della sconfitta politica Berlinguer ha vinto, nel senso che è stato il protagonista di cose che ancora oggi esistono, che stanno in piedi e che con tutti i limiti di quello che è successo dopo, hanno reso l'Italia una democrazia europea, diciamo, paragonabile alle altre, con un livello di riforme sociali, dei diritti economiche, istituzionali, amministrative, che hanno comunque consentito, nel bene e nel male, con sempre poi l'analisi differenziata ti consente di vedere i limiti, su questo abbiamo biblioteche, sui limiti abbiamo biblioteche, forse dovremmo anche ricordarci sommessamente che quella stagione ha cambiato in meglio l'Italia e che chi voleva travolgere quell'avanzamento è stato sconfitto e la Costituzione è rimasta, la Repubblica sta lì, la Polizia è più democratica, l'esercito è democratico, la scuola è democratica, la magistratura è democratica, poi tutti hanno tutti i limiti, ma questo è accaduto grazie, in misura molto significativa, alla capacità di Berlinguer di capire come, di costruire quella forza, di renderla possibile e di quindi vivere una stagione che è stata poi sconfitta drammaticamente, Aldo Moro è stato ucciso, il compromesso storico non si è realizzato, non si è realizzata neanche la terza fase, tutto ciò non è avvenuto, ma comunque ha prodotto un straordinario salto di qualità dell'Italia, di cui noi oggi siamo beneficiari, la mia generazione è beneficiari, e anche quelle successive. Poi adesso il problema di non evitare che quelle dopo invece ricordino questo solo sui libri. Il secondo motivo è legato al primo naturalmente, anche qui il PC non è riuscito a costruire l'alternanza, e quindi ci sono stati gli anni Ottanta, e quindi poi c'è stata Tangentopoli, e quindi tutto questo lo sappiamo. Resta il fatto che leggere alcuni test in cui Berlinguer capiva il fatto che la DC era un partito conservatore e progressista al tempo stesso, coglieva questo dato unico che era speculare alla unicità del Partito Comunista Italiano, per Gramsci, per Togliatti, per la capacità di radicarlo in un insediamento che negli altri paesi ha l'insediamento del socialismo, lì ci ha andato il PC, per tutte cose fatte da chi ha preceduto Berlinguer. Ma Berlinguer ha saputo questa roba qui radicarla in una società che si trasformava e non farla rinsecchire, ma anzi espanderla al massimo livello nei ceti intellettuali, nel ceto medio, nel pezzo delle classi dirigenti, e di fondare un radicamento, una traghettazione dal partito nuovo a un partito che con tutti i limiti di arroccamento, è stato capace a un certo punto di unirsi con quelli che Berlinguer aveva detto era la componente progressista della democrazia cristiana e con gli altri eredi delle transizioni riformiste e dare vita a un partito che è il mio, poi ci sono legittime eredi di Berlinguer che oggi non sono il mio partito e sarebbe assolutamente sbagliato appropriarsi in modo univoco di questo, ma resta il fatto che senza Enrico Berlinguer oggi non sarebbe possibile che al Parlamento europeo la delegazione italiana che sta nel gruppo socialista europeo è sempre la prima o la seconda, non sta come stanno i francesi, perché Berlinguer ha saputo ricollocare, nel senso fondamentale, dimentichiamo la politologia, i limiti, ma nella sostanza, in ciò che resta, ha saputo ricollocare quell'insediamento su una dimensione riformatrice, riformista di centro-sinistra che ha saputo radicarsi strutturalmente e esprimere classi dirigenti, esprimere, svolgere una funzione di governo con tutti i limiti della seconda repubblica che conosciamo, ma comunque, diciamo così, se uno volesse citare in modo un po' così, Vasco Rossi, e questa sala lo può dire, e già siamo ancora qua, nel senso, e questo è in qualche modo un'eredità che noi non possiamo non riconoscere fondamentalmente a Enrico Berlinguer e alla sua funzione che ha svolto, al netto di tutto il dibattito che abbiamo già svolto. E la terza cosa, il concludo, perché altrimenti sono troppo lungo, è molto più sintetica, però qui ci sono alcuni degli articoli che se sono, noi abbiamo, c'è stata tutta una stagione in cui si diceva ma non c'è, l'ultimo Berlinguer è quello che ci piace, quello è legato al dibattito interno, alle varie componenti del PC, quindi no, non il Berlinguer che fa l'accordo, ma il Berlinguer del pacifismo, del ambientalismo, ci piace quello, non ci piace quell'altro. Ma c'è qualcosa di più nei famosi pensieri lunghi, ne ha scritto Walter di Berlinguer, perché se uno li legge oggi hanno sopravvissuto persino al dibattito, alla crisi anche delle culture politiche che diciamo valorizzavano quella parte in contrapposizione di un'altra. Se uno legge l'intervista a Ferdinando Adornato sull'elettronica, sui computer e sulla società digitale del 1983, correggetemi, rimane oggettivamente piuttosto colpito, perché è veramente, e spesso si è detto talmente in modo retorico, le cose che dice Berlinguer sono attuali, che uno lo dice in punta di... non vogliamo fare, al punto, la mitizzazione e la lettura col senno di poi che qualsiasi cosa che ha detto Berlinguer... tante cose che ha detto Berlinguer hanno il segno del tempo, come è inevitabile, perché era un uomo del suo tempo, ma la forza di alcuni dei suoi pensieri lunghi è oggettivamente ancora oggi fonte e anche contribuisce a spiegare perché l'esperienza politica che lui ha diretto ha saputo in qualche modo anche, la cultura politica che lui ha contribuito alimentare ha saputo, è in grado oggi di misurarsi con quelle questioni, perché ha iniziato a occuparsene molto precocemente del tema dell'ambiente, dell'implicazione e dello sviluppo tecnologico sull'economia ma anche sull'antropologia delle persone, sui temi che oggi sono oggettivamente l'agenda di tutti noi, diciamo così, dello sviluppo famoso, inclusivo, sostenibile e innovativo. E quindi queste tre ragioni che questa mostra, credo proprio nella sua semplicità e evidenza, ci aiuta a vedere, in qualche modo aprendo una fase diversa del dibattito del post che ci ha tutti assorbito per tantissimo tempo, è molto importante e quindi costituisce un contributo non solo alla riflessione di chi ha quell'eredità, quella storia partecipa e si sente parte, ma del paese, perché tutte queste cose non hanno solo riguardato la sorte, la vicenda di un soggetto politico, di un gruppo dirigente, di un insediamento di parte, ma hanno segnato in modo profondo la storia dell'Italia, la storia dell'Italia che quindi non può che, e anche per questo l'Italia riconosce in Berlinguer uno dei suoi padri e uno dei leader più amati. Grazie.